Sono Paola Caruso e questo è il mio terzo giorno di sciopero della fame. Ho lavorato per sette anni per il Corriere della Sera, prima come freelance e poi come collaboratrice precaria. Se ho iniziato la protesta è perché non voglio pensare di essere precaria a vita. La mia situazione è disperata, almeno quanto il mio gesto, ed è la condizione di tanti come me che affrontano ogni giorno i miei stessi problemi, senza nemmeno poterne parlare liberamente. E questo non riguarda soltanto l'editoria, ma la maggior parte dei settori dell'economia. Quello che sto facendo non è soltanto per migliorare la mia condizione lavorativa o professionale, ma per rendere noto un problema diffuso quanto sotterraneo, che è quello del precariato in Italia. Pertanto ho intenzione di andare fino in fondo, per l'affermazione di un principio costituzionale, che per me è molto importante, il diritto di svolgere il proprio lavoro con la giusta dignità. La mia voce oggi è una flebile voce, ma potrebbe diventare un grido se condiviso, oppure morire nell'indifferenza. Grazie per avermi ascoltata.